Buona e santa domenica sera a tutti, bentrovati, pace e bene. Come nostra consuetudine, proprio perché noi amiamo Gesù e Maria, vogliamo analizzare, esaminare, se volete, la nostra coscienza, il nostro cuore, la nostra condotta, la nostra vita, per comprendere se oggi abbiamo fatto la volontà del Signore, se lo abbiamo amato, se lo abbiamo riconosciuto, se lo abbiamo testimoniato, oppure se lo abbiamo offeso, se siamo stati mancanti in qualche cosa verso il Signore, verso i fratelli, no? Per esempio vorrei fare una sola domanda. Oggi che è domenica, giorno del Signore, abbiamo santificato la domenica, l'eucharistia domenicale, la messa domenicale? Al di là che siete andati di sabato, di domenica mattina, di domenica pomeriggio? Ma ci può essere un cristiano che non va alla messa la domenica? E che cristiano è? È un vero cristiano? Ci può essere un cristiano che non sente la necessità di riunirsi nella casa del Signore con i suoi fratelli e di ricevere la Santa Eucharistia? E anche chi la segue da casa per malattia, ecco, per malattia, eh? Si segue da casa. La segue fino alla fine, senza distrazioni, con amore, senza rispondere al telefono mentre che c'è la messa o fare altro. Ecco, allora, continuiamo questo esercizio che abbiamo iniziato ieri nel giorno dell'esaltazione della croce, con queste parole del Vescovo Sant'Antonio Maria Claret, 15 minuti con Gesù, e non è Gesù, questo dialogo che parla a noi. E arriviamo all'altra domanda. E per te hai bisogno di qualche grazia? Ecco, ieri il Signore ci ha fatto pensare agli altri. Ora ci invita a pensare un po' a noi stessi. E per te hai bisogno di qualche grazia? Se vuoi, fammi una lista delle tue necessità e vieni a leggerle in mia presenza. Ricorda il caso del mio servo Salomone, mi chiese la saggezza e gli fu concessa in abbondanza. Non dimenticare Giuditta, che imperò grande coraggio e lottenne. Tieni presente Giacobbe, che mi chiese prosperità, promettendogli di dare in opere buone la decima parte di quanto avesse avuto. E gli fu concesso molto, generosamente, tutto quello che desiderava e ancora di più. Dimmi, sinceramente, se sei orgoglioso, se ami la sensualità e la picrizia, se sei egoista, incostante, se trascuri i tuoi doveri. Dimmi, se hai l'abitudine di dire bugie, che non domini il tuo sguardo. Dimmi, se parli senza carità degli altri, che ti preoccupi di più di quello che pensano gli altri di te, che di quello che pensa Dio, che ti lasci dominare dalla tristezza e dal malumore. E io ti ricorderò i miei insegnamenti, che porteranno una trasformazione totale nella tua vita. Avete qualche necessità? Volete mettere dinanzi al Signore adesso qualcosa? Vi lascio in silenzio per pregare. Tutto questo ti posso dare e desidero che tu mi chieda sempre quando favorisca la tua santità e non si opponga ad essa. Padre, non ciò che io voglio, ma ciò che tu vuoi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio. Prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Io vi auguro una notte serena e un riposo tranquillo. Vi abbraccio fraternamente. Vi ricordo che dopo mezzanotte potete trovare la novena, il terzo giorno, a Padre Pio da Pietrilcina. Ci vediamo domani mattina per il buongiorno. E domani abbiamo la coroncina alle 15 e il Santo Rosario alle 17.20, sempre in diretta. Vorrei dirvi anche che il 20 settembre sarò a Giffoni, Valle Piana, al Santuario della Santa Spina per la Messa e un momento di testimonianza. Santa notte a tutti e ricordatevi che vi voglio bene.